Ciao a tutti ragazzi sono Fraxer e oggi siamo sul nuovo video dopo troppo tempo Troppo, raga è passato troppo tempo, tipo da febbraio, quindi scusatemi Solo che la scuola è tutto un casino, guardate Oggi sono ritornato con un video Strano, come sempre. Allora, sapete che io faccio sempre 5 cose, ma oggi è un 5 cose un po' strane Cioè, un video un po' non lo so come dire, strano Allora, il titolo sarà 5 cose che sono successe a tutti Nel senso che sono successe ad ogni tipo di persona Quindi nulla, scusate se ne parlo troppo Ci vediamo Primo tipo, quando... cioè, mi sarà successo purtroppo quando una persona ti dà buca e quindi tu ci rimane di merda Quindi è successo un po' a tutti Allora, finalmente può uscire, allora chiediamo se può uscire Inviato online Sì, domani posso uscire Ci sentimo domani Ok Nuovo messaggio da Giulia Cosa vuole? Ci dobbiamo vedere oggi Ciao Scusa ma oggi ho altri impegni da fare quindi non posso uscire Ah, e me lo dici ora che non puoi uscire Me lo dici ora che non puoi uscire Ok, secondo tipo Allora, quando... non so se mi è mai capitato No, sicuramente Quando hai... no, quando tipo... ti metti d'accordo con tua madre Che è da vent'anni che chiedi una cosa, lei te la deve comprare questa determinata cosa Arriva il giorno dopo che devi andarla a comprare questa cosa e tua mamma ti dice E dai amore sono stanca, andiamo, sono stanca, dai andiamo domani perché io... io non l'avevo nato fino alle 5 di mattina Quindi sono stanco morto, sono stanca morta quindi mi dispiace dai E tipo tu ci rimani cosa? È da vent'anni che te lo sto chiedendo perché cosa? Ti uccido Scherzo, ovviamente, però quando fanno così... oh 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 no E quindi tipo... terzo tipo Oggi è Natale Madonna, quanti big money, quanti big money No vado da mio nonno, mi darà 100 euro, almeno spero 50, 50 o 100 Dai, vedremo, vedremo Nonno Tieni, nonno, tieni, tieni Tieni, tieni 10 fottuti euro mi ha dato 10 fottuti euro per natale un nonno che da 10 euro no 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 va bene ciao addio muojo in pace quarto tipo quando sei in autobus o in treno ed uno è una persona puzza proprio di ascelle proprio gorgonzola pura e tipo muori malissimo perché è un odore di di non dico altro cioè quinto tipo perché sta guardando così la mia ragazza quello sì hai ragione hai ragione quindi ragazzi se il video vi è piaciuto se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace arriviamo a 20 like per il grande ritorno e nulla se arriviamo a 20 like porto un altro video di questo genere e nulla iscrivetevi attivate la campanellina qui sotto lasciate un like e alla prossima bella